Buonasera, c'è un'altra epidemia oltre quella serissima della coronavirus, l'epidemia delle fake news, delle false notizie che si insinuano, hanno a che fare con cure miracolose, con falsi origini del virus, con foto, video e allora anche noi dobbiamo sviluppare i nostri anticorpi. Noi abbiamo invitato qui, credo il più grande cacciatore, quantomeno per il bottino ricco che ha raccolto e che lo fa ogni giorno, Davide Puente, cacciatore di false notizie, di fake news, che collabora con Open e l'attestata fondata da Enrico Mentana. Grazie per essere con noi. Grazie a voi. Letteralmente scapicollato, qui atterrato nel nostro studio. Andiamo a vedere subito i titoli e poi subito a caccia di false notizie. Chissà che non ci siamo cascati anche noi. Eccole. Scontro durissimo tra Conte e Renzi. Il premier Italia Viva chiarisca agli italiani un atteggiamento surreale e paradossale. La loro posizione è aggressiva e maleducata. Renzi, se vuole la crisi lo dica e con ironia aggiunge lo aiutiamo. Giustizia, scontro nel governo, Conte e Televiva. I ricatti inaccettabili si comportano d'opposizione e chiariscano stasera il CDM. E a proposito di coronavirus, i ritardi delle comunicazioni, la mancanza di trasparenza, le rassicurazioni fittizie fornite, la lentezza dei primi soccorsi. A due mesi di distanza dai primi casi registrati a Wuhan, si definisce un quadro che costringe Xi Jinping al giro di vite. Ha cacciato tutti i vertici politici, amministrativi e sanitari di Wuhan. E sono stati anche di molto ampliati i casi accertati, con una nuova metodologia. 15.000 in un giorno. Davide Puente, hai sentito dalla 7 la voce del tuo direttore? Allora, ancora una volta benvenuto. Sul coronavirus c'è la psicosi, tante anche teorie che si insinuano sin dalle prime ore, ma nelle settimane sembrano davvero crescere. E il web è un po' un sistema di propagazione naturale, grazie alla tecnica della condivisione. Ecco, noi cerchiamo, come dire, questa mediazione giornalistica sempre di filtrare, ma è necessario anche che nella rete ci sia una rete che filtri queste false notizie. È il tuo lavoro quotidiano, ci diamo del tuo perché ce lo diamo anche fuori onda. Davide, ecco, partiamo proprio da questa notizia. Guardate con noi la grafica che ci mostra che cosa, come questo dato in cui è difficile effettivamente da riconoscere, ed è passato come il numero reale, i dati reali che invece sono stati nascosti dal governo cinese. Sì, praticamente in Cina ci sono delle applicazioni che ti tengono aggiornato su quanti sono i casi di sospetti infettati, ci sono quelli che sono effettivamente presi dal coronavirus, i morti e i guariti. Quindi queste applicazioni danno un aggiornamento quasi continuo, quasi ogni minuto. E improvvisamente uno di questi ha mostrato dei numeri esorbitanti. E quindi qualcuno ha già iniziato a dire, ecco, ecco quelli sono i veri dati, gli sono sfuggiti di mano. È stato un bug, un errore nel sistema? Esattamente. E quindi iniziamo con la teoria che siano più morti e più infettati rispetto a quelli che si dicono, perché il governo cinese nasconde le cose. Facendo un po' di ricerca, si è scoperto che questo qua è un fotomontaggio. Questo qui che vediamo? Sostanzialmente non tanto un fotomontaggio, viene usato un sistema in cui si modifica addirittura il codice del sito dal proprio computer e poi hanno fatto la foto dello schermo. In questa maniera era ancora più difficile scoprire. Poi è stato l'unico in tutta la Cina a circolare. Allora, di domani se se ne ha accolto uno, quanti se ne saranno accolti? E ho scoperto qual era il momento esatto in cui hanno preso quello screenshot e l'hanno modificato. Addirittura. Esatto. È un grande lavoro veramente di ricerca e di caccia. Andiamo su numeri invece reali. Sono stati superati 60.000 casi. Il giovane italiano, come il vice ministro della salute per Paolo Sileri, che era al tuo posto, ci ha annunciato, tornerà in Italia. Questo con un volo messo a disposizione dal governo italiano. Mentre sono saltati i vertici politici, amministrativi e sanitari proprio della città dove tutto è partito. Questo per volontà del presidente Xipin. 242 vittime in 42 euro. Allora, che cosa capita? Che nelle tante mappe che si diffondono online attraverso i social media, ce n'è una che, certo, era un po' un pugno allo stomaco ed è questa. Perché? Questa è un po' la grafica che su Open tu utilizzi per porre un punto interrogativo a chi ci segue, prendendo però una foto reale. Ci spieghi qual è la teoria che ha portato addirittura a pensare che quello, Wuhan, sia stato il centro anche dove i corpi siano stati cremati delle persone vittime? Sì, sostanzialmente le persone che muoiono a causa del coronavirus vengono cremati. E questo appunto per una questione di sicurezza. C'è qualcuno che online utilizza magari qualche sito che fornisce un servizio per vedere quante sono le percentuali, quali sono le quantità di, in questo caso, anidride solforosa. E tu dirai, che cosa vuol dire questo? Praticamente anche nel caso di una cremazione il corpo rilascia poi di conseguenza anche questa anidride solforosa. ma anche tanti altri, diciamo, elementi. In questo caso le persone si allarmavano vedendo questo dato eccessivo rispetto al normale. Allora facendo anche lì una ricerca in quel sito che hanno utilizzato e tutto quanto, si è visto che è durato magari un'ora durante la notte e per, diciamo, se fosse veramente un punto dove cremano i corpi, in un'ora avrebbero dovuto bruciare l'equivalente di quello che è stato bruciato ad Auschwitz. Quindi numeri estremamente enormi per essere veramente quelli. E poi mancano tutti gli altri elementi che non sono considerati da questo tool. Quindi questa teoria è da ritenere improbabile. All'inizio della puntata proprio domandavo, chissà che non ci siamo cascati anche noi, intendendo chissà se anche nei nostri smartphone, telefonini o computer ci è passata questa notizia e l'abbiamo così letta, vista. Il nostro impegno ovviamente, come testata giornalistica, è quella di difenderci e difendervi ed è quello che stiamo facendo. Anche se per esempio si è parlato di un primato mondiale, ricorderai domenica, quando si è parlato dell'isolamento, che in realtà poi è stato precisato non essere mondiale, ma invece in altri paesi, ma quello riguardava anche, come dire, anche un trasporto, ecco così, di emozioni e di gioia per quel passaggio. Diverso è quando compaiono dei video, dei video che vengono mostrati, come dire, non ve li vogliono far vedere, non li abbiamo presi, ve li facciamo così vedere circolare, guardate questo che ha a che fare con degli svenimenti. Ce lo vuoi anticipare prima che lo vediamo? Sì, praticamente, non conoscendo bene i sintomi della malattia, del virus, le persone quando vedevano qualcuno che stava male, avevano subito paura e quindi fotografavano, facevano video di chiunque stesse male e sveniva. E il problema qual è? Che nessuno andava ad aiutarlo e quindi veniva isolato e lasciato a se stesso. E non si sa neanche se quella persona avesse o no il coronavirus. Peggio ancora quando invece si trattava di una persona magari che era ubriaca. Vediamo, vediamo insieme. Come si riesce a dimostrare che un video che non c'entra niente con il coronavirus? Allora, intanto, in questo caso qua bisognava andare a cercare chi è la prima persona che l'ha pubblicato. Quindi la fonte? La fonte primaria. Ecco, in questo caso appunto è stato fatto passare questo video come un medico, un dottore nell'ospedale di Wuhan che si è svenuto per colpa del coronavirus, ma in realtà lui è caduto perché l'hanno menato. Ah, ecco. Perché praticamente in questo caso una triste storia di una famiglia che ha perso un familiare durante l'operazione e se la sono presa un po' con i medici. E questo è il risultato. Quindi non c'entra assolutamente niente col coronavirus, però cercando le notizie online si trovano le notizie, le testate locali in cui raccontano questo episodio. C'è bisogno di anticorpi e proprio quando c'è un'emergenza, quindi si è forse anche più sensibili a questo tipo di temi, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha scelto di intervenire su questo intensificando i contatti con le principali piattaforme social per contrastare proprio la diffusione di allarmismi. Notizia, guardate, che abbiamo ripreso da Focus come curiosità. Perché? Perché all'interno siamo addirittura arrivati, pensate, all'OMS che ha scelto non soltanto ovviamente di mettere in atto tutto questo, ma, guardate la prossima grafica, di diffondere questo messaggio, cioè cosa era passato? Voi vedete un aglio, cioè era passato il messaggio che l'aglio avesse proprietà per difendersi dal coronavirus. L'Organizzazione Mondiale della Sanità è dovuta intervenire arrivando a questo, quindi significa che non è un problema di poco conto, o sbaglio? No, no, assolutamente, ci sono anche altre dicerie, poi c'è chi si approfitta. Volevo dire delle altre dicerie, forse anche più curiosi che però... In Taiwan dicevano che si poteva curare con l'aceto, ma un tipo di aceto, quindi dovevi andare pure a comprare quel tipo di aceto, e quindi da questo ti fa capire come qualcuno cerchi anche di approfittarsi della disgrazia per fare magari qualche guadagno. Quella del... insomma, c'è la gente che addirittura pensava di dovesse lo mettere nel naso. Per filtrare quasi, chissà. Intanto in Italia il Ministero della Salute ha stretto un accordo con Twitter che prevede che tutte le persone che ricercano notizie su questo tema vengono indirizzati appunto al portale del Ministero della Salute, qui vedete un pochino, ecco, la schermata anche che vi compare e la notizia data dal Ministro Speranza. David Puente, rispetto alla libertà della rete della ricerca, sei d'accordo con questo sistema di difesa? Beh, è un inizio, perché le persone quando si trovano un attimo... perché siamo in una situazione in cui sono perse, che siano i social network cinesi, che siano i social network internazionali come Twitter, Facebook, le persone sono bombardate, da diverse informazioni anche di persone che neanche... cioè, non sappiamo neanche chi sono. In questo caso almeno diamo un'istituzione che fornisce l'informazione per dire signori, intanto iniziate da qua, che è importante, state attenti a quello che viene diffuso altrove. Questo è un campanello d'allarme, questa è la prima soluzione. Tu dicevi, ci sono degli interessi di varia natura, commerciali, anche di destabilizzazione, certo è che la falsa notizia, la fake news, la bufala, detta in altre parole, è anche uno strumento, un'arma, spesso anche politica. Introduciamo gli altri titoli e poi andiamo a vederne due fresche fresche. Giustizia Renzi annuncia, non partecipiamo al Consiglio dei Ministri, Conte assenza ingiustificata, fate opposizione maleducata, serve un chiarimento, Zingaretti, se cade il governo, finisce la legislatura. Il deragliamento del treno nell'Odigiano, possibile caso a un difetto nello scambio, ma non giustifica tutto, dice l'Agenzia per la Sicurezza Ferroviaria. E in Italia Francesca Colavita, la ricercatrice precaria che ha fatto parte dell'equipe che ha isolato nel nostro paese il coronavirus, sarà assunta dall'Istituto Spallanzani. Non è più precaria, insomma, non è soltanto una conseguenza del lavoro, ma anche lo è. Era stata già richiesta a novembre la sua assunzione, ma dalla regione molise che doveva dare il nulla osta, tutto è arrivato velocemente dopo che è diventata, in qualche modo, una situazione all'onor del mondo. Allora, ricorderete quando anche noi, ovviamente, specchio anche dei titoli di telegiornale, abbiamo parlato tanto anche delle sardine, torneremo probabilmente raccontando la cronaca e quello che accade, e in questo senso era stato pubblicato un articolo dal titolo Sostemetrice Borgonzoni pestata a sangue da sardine, a contatto di una foto, perché leghista? E ve la mostro. Falsa notizia? L'hai bollata, perché? Allora, intanto la ragazza aveva raccontato una storia un po' esagerata di quello che le è successo. È stata picchiata a Brescia dalle ragazze di centri sociali. Poi, sai, si scrive che è stata soccorsa dai carabinieri, che è stata in ospedale, ha presentato pure sui social un certificato dell'ospedale che era stato preso online. Pure, è quello. I carabinieri negano, gli ospedali negano che sia successo una cosa del genere. A questo punto diciamo, ragazzi, qua è una notizia falsa. Infatti poi la ragazza si è dichiarata dicendo che si era truccata e aveva inscenato tutto quanto. Perchè? Come strumento politico in questo caso? Era nel periodo delle elezioni in Emilia Romagna, e quindi si voleva dire, ecco, i centri sociali e poi le sardine, che sono loro i violenti nei confronti delle persone. Allora, non abbiamo tanto tempo, ma dobbiamo chiederci, devo chiederti, anche sapendo in parte la risposta, queste pratiche sono sanzionabili? Perché questo è poi il tema forte. Assolutamente sì. Questo può anche essere procurato allarme, come anche è stato per quel docente dell'Accademia di Frosinone, che quando aveva raccontato questa storia dei cinesi presi a sassate insomma dai delinquenti, si è scoperta che la notizia è falsa e è stato denunciato per procurato allarme. Ve ne facciamo vedere un'altra, velocissima, su Laura Boldrini, che è stata oggetta più volte fra l'altro appunto di queste campagne, ex presidente della Camera, a cui si sostiene che abbia raccontato in un tweet di essere stata derubata nella sua villa a Portocervo per beni di, per un valore di 34 mila euro, sia il tweet che la villa non esistono. David, sei stato con noi, io ho una notizia però vera, buona notizia, te la voglio dare, e a chi ci segue a casa perché la scegliamo sempre, la buona notizia di oggi, compie 20 anni il Banco Farmaceutico e festeggia donando 547 mila confezioni di medicinali per i più poveri, notizie che abbiamo ripreso. Davita, notizia verissima. Grazie allora al cacciatore di fake news e di false notizie, Davide Puente, per essere stato con noi. Buon lavoro a Open, ovviamente al direttore Enrico Mentana, grazie davvero. E allora vi lascio adesso a Una donna alla Casa Bianca, andrà in onda tra qualche secondo, serie statunitense con il premio Oscar Gina Davis e poi anche Donald Sutherland che racconta la vita della prima donna presidente degli Stati Uniti. Vi lascio al Dulcis in fondo, torniamo alla 13 febbraio del 2005 quando moriva Sor Lucia, custode del messaggio di Fatima. Domani invece, guerra e pace con Antonio Soviera. Buonasera a tutti.